un saluto da simone vostro nutrizionista allenatore edizione nuova particolarissima del più importante contest di bodybuilding mondiale quest'anno il mister olimpia si terrà a dicembre un periodo insolito con addirittura più di 30 atleti qualificati una line up eccezionale dove sarà difficilissimo contendersi un posto tra i primi dieci ma vediamo secondo me ce la farà ecco quindi la mia top ten una menzione onorevole va al nostro mitico gigante umile disponibilissimo appassionatissimo e pieno di contenuti che grazie al cielo ci regala con i suoi incredibili allenamenti guidati dal leggendario coach mauro sassi andrea presti è l'orgoglio del bodybuilding italiano attuale nonostante miglioramenti clamorosi degli ultimi anni con deltoidi infiniti un pettorale che sta esplodendo credo purtroppo che andrea difficilmente riuscirà ad entrare in top ten anche se tutti noi lo speriamo vivamente chiaramente gli auguriamo di ottenere un piazzamento degno di ciò che fornisce al movimento in italia è lui ad oggi il più grande promotore del bodybuilding del nostro paese e personalmente sono felice ed orgoglioso che rappresenti la nostra nazione e spero davvero possa fare il miracolo entrando prepotentemente in top ten ma vediamo di iniziare con la decima posizione nella quale troviamo michael chrysanek detto michael chryso un bodybuilder emergente è dotato di una massa spropositata che credo possa abbastanza facilmente entrare in top ten sarà dura per lui superare alcuni mostri sacri affermati ormai da tempo massa incredibile dicevamo forme la shape è eccezionale potrebbe anche puntare più in alto non l'abbiamo visto al cento per cento della condizione quindi chissà riuscirà a portare una condizione adeguata sul palco questo è il nostro più grande dubbio in questo momento e secondo me già una decima posizione all'esordio sarebbe fantastica potrebbe eventualmente spodestare altri bodybuilder in queste posizioni al numero 9 abbiamo samson dowda the nigerian lion il leone nigeriano con il suo mitico coach milosh sarcev un uomo che ha fatto la stessa colazione per penso più di 20 anni pazzesco un grande che prevede che samson arriverà addirittura terzo quest'anno qui abbiamo il suo ultimo video su instagram che si spera essere recente ma non si può mai sapere ovviamente a a proposito predictions pronostici di un mister olympia di roscio di bodybuilding lasciano il tempo che trovano perché non possiamo mai sapere come arriverà un atleta sul palco si possiamo avere delle indicazioni la struttura è quella se ci sono video foto recenti possiamo comunque dare delle valutazioni ma fino all'ultimo non si può mai sapere sappiamo benissimo che già dal pre show allo show vero proprio dalla pre judging allo show vero proprio cambiano le condizioni degli atleti quindi se ad oggi ci può sembrare che un dato bodybuilder sia in condizioni fantastiche nel giro di pochi giorni può cambiare tutto può cambiare tutto però andiamo avanti si parla molto quindi di samson delle sue forme uniche di come si è arrivato a pesare qualche settimana fa a circa due mesi dalla competizione addirittura 330 pounds poco meno di 150 kg può sicuramente ambire a traguardi più elevati ma non credo che questo possa avvenire già quest'anno quest'anno è dura ne abbiamo veramente tanti ma signori si diceva che forse la schiena era il punto debole pazzesco direi che dopo queste immagini che stiamo vedendo non lo è più miglioramenti fuori di testa un gran dorsale infinito che va addirittura a ricoprire gli elettori spinali almeno in questa che possiamo definire con una posa relax rilassata ma è davvero pazzesco addirittura ha messo a confronto con the king ronny coleman che comunque come possiamo vedere aveva dorsali lentamente migliori è chiaramente con l'inserzione più bassa però possiamo dire che a livello di larghezza e spessore samson fa la sua onesta figura in ottava posizione hunter labrada figlio del leggendario lila brada hunter si è piazzato al quarto posto lo scorso anno battendo addirittura nick walker ha detto di molti in maniera non proprio meritatissima in questo post dice di essersi svegliato a 266 libri circa 120 chili grandi minoramente anche da parte sua ma credo sia difficile per lui competere contro alcuni giganti dotati di una massa e struttura migliore infatti ha detto che punterà tutto sull'essere superseded in una condizione incredibile tiratissimo però la sua condizione non è sempre stata al top di conseguenza questo mi fa presagire che possa scivolare di qualche spot anche se vediamo da quest'altro post che sui quadricipiti ha messo una massa incredibile veramente inaudita per le sue forme non ci sta più niente quindi se riuscisse arrivare veramente tiratissimo potrebbe comunque anche lui salire di qualche posizione arriviamo alla posizione numero 7 dove troviamo qualcuno che per le forme merita sicuramente un posto più elevato ma forse arrivando dalla 2 12 dovrà ancora crescere muscolare muscolare per raggiungere un traguardo che penso possa conquistare tranquillamente già il prossimo anno ebbene sì perché derek lansford è dotato di una genetica pazzesca guardiamo qui lo vediamo qui in preparazione un fantastico peclat spread ma ragazzi ma guardiamo la forma della schiena è incredibile e frontalmente come diavolo vengono fuori questi dorsali fantastici il vecchio ma addominale anche di tutto rispetto veramente questo ragazzo ha una struttura incredibile ex mister olimpia 2 12 ripeto forse un po presto guardiamo come si aprono questi dorsali forse un po presto per arrivare al top ma davvero non gli manca nulla guardate il vasto laterale sinistro come diavolo si apre è incredibile una massa pazzesca ma reggerà il confronto con i mass monster davanti a lui ecco questi video che abbiamo appena visto non erano così recenti però è vero che instagram inganna ma a vedere questi post più aggiornati sembrerebbe che derek abbia messo una massa pazzesca specialmente nell'upper body ma insomma le gambe non sono da meno quindi chi lo sa potrebbe davvero arrivare molto molto più in alto ma simo ma perché solamente il numero 7 il povero derek è fantastico perché secondo me questo ragazzo qui ha distrutto tutti qui al texas pro e ragazzi ha detto che secondo lui era off off conditioning in un'altra intervista ha detto di essere all'ottanta per cento quindi ragazzi qui veramente ha surclassato tutti praticamente in tutte le pose non vedo punti deboli una shape fantastica del tori di giganti le gambe hanno le striature sui quadricipiti abbiamo sulla coscia la schiena enorme forse forse nella spread qualcuno ha detto che poteva aver perso contro qualcun altro di questi bodybuilder ma in realtà poi vedete come fa il front double bicep leggermente alzando un pochettino di più il braccio sinistro è veramente anche a livello estetico molto pleasing veramente e come si apre il dorsale insomma a questo ragazzo non manca niente io penso che possa veramente stupire per me lui è la sorpresa il dark horse di questa edizione del mister olimpia 2022 e davvero in ogni competizione questo ha raso al suolo tutti non credo ce la possa già fare all'olimpia però anche lui ha tutte le carte regola per stupire andrew jacks secondo me pazzesco e può arrivare in top six adesso arriva il bello perché per me è difficilissimo posizione 5 4 3 e penso anche due se la possono contendere i prossimi 4 bodybuilder credo che qui a 120 kg ci sia brandon curry in posizione numero 5 ex mister olimpia uno degli upper body migliori degli ultimi anni e probabilmente di tutta questa line up anche se probabilmente abbiamo visto che andrew jack potrebbe stargli dietro ma vediamo poi come si presenteranno sul palco ovviamente brandon ha molta più esperienza quindi una massima maturity maturità muscolare decisamente più elevata le gambe sono sempre state il suo punto debole però qui sono coperte si sente dire che ha fatto degli improvements e miglioramenti decisivi staremo a vedere per me william bonac l'ha battuto all'arnold classic anche se così non è stato ma ha presentato una condizione migliore william bonac ha fatto poi anche lui stesso dei grandiosi miglioramenti quindi probabilmente brandon quinto e william bonac potrebbe andare al quarto posto ed eccolo qui the conqueror william bonac che dire di lui allora una forma una shape pazzesca fuori dal comune lui ha forse le braccia migliori di tutti quanti perché rispetto comunque alla sua struttura avere delle braccia così è veramente impensabile è ridicolo grottesco del toy di che non ci stanno più e personalmente impazzisco per la sua schiena perché lui ha queste inserzioni ultra basse nel grandorsale e davvero quando si aprono la spread bank in un back double bicep fa paura all'anno classic appunto l'abbiamo visto in una grande condizione nonostante avesse problemi di ginecomastia che ha chiaramente risolto adesso per cui arriva in questa edizione dell'olimpia al top ancora meglio eccolo qui un aggiornamento che vediamo braccia sempre infinite risolto cominciamo il problema della ginecomastia e poi anche un nuovo coach ced nichols quindi insomma non proprio uno sprovveduto di conseguenza può fare veramente bene potrebbe battere anche numero 3 numero 2 vincere ha battuto in passato big rami l'attuale mistero olimpia ma sarà molto molto dura quarto posto per me già tanta roba per william bonac e qui arriva all'indecisione perché a me piace da morire guardate qua di hamstring ai discoi crurali che razza di definizione hanno per non parlare della schiena pazzesca glutei guardalo lì no veramente fuori di testa guarda come apre il dorsale poi fa delle pose incredibili eccolo mamma mia da davanti ridicolo anche lui quadricipiti striatissimi una separazione una definizione veramente pazzesco pazzesco da paese delle meraviglie comunque adi chupan potrebbe anche andare al numero 2 potrebbe vincere anche sì però allora qua veramente striatura ovunque lui porta sempre una condizione formidabile sul palco però negli ultimi anni c'è stato questo l'ultimo periodo questo problema per il quale è stato accusato a di di utilizzo di sintol un olio particolare site enhancement o le chiamano eccolo qua soprattutto deltoidi deltoidi sembra un pochino sospetti poi probabilmente l'ho usato anche alle braccia bicipiti e tricipiti però il punto è che problema c'è se usi il sintol finché tutto è nella norma tu hai un bel flow una bella linea un fisico gradevole si nota poco lo sappiamo che ho usato il sintol tantissimi l'hanno usato prima di te ecco questo è un esempio di chi usa il sintol magari esagerando e ce n'è tanti tanti altri ma se lo usi nel modo giusto potrebbe non essere un grosso problema chiaramente questo va sul palco non fa una bellissima figura lo stesso non possiamo dire per adi che invece magari magari ha usato determinate sostanze ma questo potrebbe penalizzarlo e farlo scendere al terzo posto oppure potrebbe eventualmente anche premiarlo perché magari con l'utilizzo di queste sostanze è arrivato addirittura col mare delle piccole lacune personalmente preferisco chi non lo usa mai chi non lo usa per niente però si sa che lo usano in tantissimi purtroppo ed eccoci qui alla probabile numero 2 non lo so è difficilissimo a me personalmente non fa impazzire ci metterei bonac però il mutante nick walker adesso perché allora beh qui un po depleted un po scarico con i carboidrati quindi ho peso leggermente minore di quello che poi porterà sul palco però vediamo già dei miglioramenti per quanto riguarda gli arti superiori le braccia addominali abbastanza pazzeschi poi sui quadrici pt sono sempre stati decisamente un un ottimo punto di forza e sembrerebbero essere migliorati ulteriormente però dov'è che troviamo delle fallo delle carenze allora ci sono sempre questi discorsi legati alle vene varie cose perché potremmo definirle diversamente nella parte inferiore dell'arte inferiore nella gamba specialmente anteriormente ma anche posteriormente quindi a livello del tricipite surale tipo l'anteriore nick walker a queste vene un pochino troppo vistose spropositate bellissime fanno impazzire con i quadricipiti ma andando dal ginocchio in giù può diventare un problema pose laterali nick fa paura ma semplicemente paura gli hamstring disco crurali sono probabilmente i migliori di tutto il mister olimpia pochissimi competono con lui forse adi ma a livello di massa nick è ancora più avanti ogni tanto vediamo nelle back poses portare un pochino di acne che spero possa risolvere tranquillamente specialmente anche a livello degli hamstring appunto e della dorsale problema del controllo della midsection eccola qui un pochino forse troppo prominente allora stato accusato anche da brandon corrie ma la midsection la pancia come fai tenila dentro tra le pose non riesci e sembrerebbe eccolo qui che questo problema sia risolto vediamo poi come si comporterà sul palco però a vedere da qui la midsection fa paura e al numero uno pazzesco come già si riconosca da qui all'ombra perché quei quadricipiti sono unici i migliori della storia probabilmente a livello di massa perché poi c'è anche tonplet con la fantastica color guitar si è anche divertito sul palco apre il dorso in maniera anche qui piuttosto unica ecco forse il tricipite surale un po' indietro del signor due volte mistero olimpia big rami e qui lo vediamo appunto divertirsi eccola qua pose di lato rami è imbattibile a questo sweep la separazione vediamo tra il quadricipite e gli hamstring ma anche sul gluteo stridature pazzesche quindi sulle pose di lato imbattibile di schiena è migliorato in maniera veramente assurda ridicola quasi perché poteva essere uno dei suoi punti deboli guardate qui incredibile l'inserzione che qua nel dorsale piuttosto bassa anche se lui ha sempre avuto poi un pochino di problemi a mostrarlo in maniera corretta invece qua un lat spread direi veramente gradevole altro problema poteva essere intanto godiamoci questi quadricipiti mamma mia veramente stupefacenti ecco problema del controllo della sezione addominale che invece sembra aver risolto alla grandissima potrebbe ancora far fatica chiaramente come tutti quelli che pesano tantissimo come lui e vediamo poi qui che allena in questo caso bicipiti anche tricipiti in questo video con il suo fantastico coach dj dennis james un grande davvero per chi ascolta poi il suo podcast è veramente oro per chi ama il bodybuilding il signor james parla di bigrami come gli sta dietro come lo segue l'ha aiutato tantissimo a mio avviso a vincere il suo primo mistero olimpia e probabilmente lo aiuterà anche quest'anno a conquistare il suo terzo titolo consecutivo aggiornamenti riguardo poi la condizione attuale di bigrami li abbiamo e vediamo che lasciate pazzesca perché qui lui dice di pesare addirittura 340 pounds che sono cari amici 154 kg e io vi lasciare così abbastanza senza parole con questi deltoidi che non finiscono più un addome in completo controllo una shape decisamente migliorata perché prima sembrava solo grosso invece adesso è grosso anche sta diventando sempre più estetico quindi bigrami secondo me ad oggi imbattibile futuro mistero olimpia 2022 se il video ti è piaciuto come sempre lascia un like iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video saluti ciao 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 ciao